C'è stata una direttiva parte del Consiglio Comunale di fare dei lavori di pulizia assordinaria sul territorio perché sarà tutta una serie di notizie di aree dove bisogna intervenire. Quindi per questo sarà programmato un piano di intervento in più da poter fare e quindi le persone necessarie per poter eseguire questi lavori dovranno essere prese all'interno di un elenco che rappresenta all'interno di un passaggio di cantiere che c'erano queste 28 persone e questo inizio di attività assordinaria doveva partire fin dal 1 marzo. Erano state date tutte le indicazioni al dirigente per potersi attivare in tal senso, sono state fatte tutti i giusti passaggi necessari per poter consentire di poter fare questa pulizia assordinaria in determinate zone della città, fra le altre cose anche in zone exorbane di alto pregio come è la zona del biviere. E quindi questa pulizia assordinaria che fra le altre cose impegna per un certo numero importante di mesi di persone consentiva di poter dare delle risposte a tutta una serie di note che sono vute sia da normali cittadini ma anche da istituzioni per poter ripulire il nostro territorio. Tutte le indicazioni sia da parte della Giunta sia anche del Consiglio Comunale che erano d'accordo su questo tipo di intervento perché sono degli oneri in più per la collettività ma sicuramente avremo un maggiore decoro e erano state veicolate verso il dirigente che già dal primo marzo, considerando che tutte le azioni propedeutiche erano state già svolte e ben definite, di poter avviare questo servizio aggiuntivo. Sinceramente ad oggi il motivo per cui ancora si sta rallentando lo devo approfondire e infatti chiederò ampie spiegazioni. Dunque se l'amministrazione comunale si è mossa in tal senso, se il Consiglio Comunale ha fatto altrettanto la colpa di che? Del dirigente del settore? Io prima di cominciare a dare colpe voglio capire in modo molto chiaro il motivo per cui non ha dato il via a questa pulizia straordinaria che poi questa pulizia straordinaria doveva portare indirettamente a queste persone iniziare il servizio perché fra le altre cose il Comune non dà lavoro, il Comune non entra all'interno del merito delle ditte a chi devo o chi non devo assumere, è una cosa che non esiste. E cosa diciamo ai 28 lavoratori che protestano? Io per me dal primo marzo queste persone dovevano iniziare a pulire la città, quindi quello che dovrebbe protestare sono pure io perché io immaginavo che già dal primo di marzo Gela potesse incominciare ad avere in determinate zone del territorio un decoro che è quello che merita e non avere queste mini discariche sparse per tutto il territorio.